Ciao a tutti, io sono Marco Cignoli e mi trovo nell'associazione Voghera E per la presentazione del libro dei sentinelli di Milano, Che fretta c'era. Prima di intervistare i protagonisti vi ricordo che se volete potete iscrivervi al canale di Jab Media TV e attivare la campanella per non perdervi tutti i prossimi video. Tu sei la curatrice del libro, ok, diciamo subito questa cosa. Ti sei definita curatrice e non autrice, perché? Perché è una voce collettiva, hai detto. Sì, è una voce collettiva. La cosa che ci importava nel momento in cui abbiamo deciso di raccontare questa storia era che venisse fuori una delle caratteristiche in particolare dei sentinelli, che è quella che io forse impropriamente ho definito la molteplicità, cioè la diversità di storie, percorsi, vicende. Parlando prima dicevamo che ci sono persone di età diverse, di storie diverse, di orientamenti diversi e questa è una delle grandi forze dei sentinelli che ci hanno spinto a capire che questa storia andava raccontata, perché appunto le battaglie per i diritti si fanno insieme, si fanno rendendosi conto che anche quello che non mi tocca è mio compito costruirlo e soprattutto anche quello che penso non mi tocchi in realtà mi tocca come cittadino, in realtà mi appartiene, in realtà mi riguarda. Per cui anche il fatto di aver voluto parlare di curatela e non di autoralità è legato proprio all'idea, proprio di cura se vuoi, cioè all'idea di aver cercato di essere, di raccogliere proprio questa varietà. Ti va di raccontare perché ci sta guardando quali sono i valori che identificano i sentinelli? I valori sono due molto chiari e precisi, laicità e antifascismo. E noi crediamo che all'interno di questi valori in qualche modo si racchiudano tutti gli altri e in qualche modo hanno sotto lo stesso nome tutte le lotte che noi facciamo, dal fine vita alla lotta per i diritti LGBT alla lotta per i diritti delle donne. Si possono tutti raccogliere sotto questi due cappelli principali che ci muovono, ci guidano e attorno alle quali noi siamo una comunità. Libro che tu hai detto mi auguro possa essere un seme, come mai? Perché è un libro che volutamente è incompiuto, nel senso che è un libro che segna un percorso, segna i primi cinque anni della storia dei sentinelli, che è una storia che continua, siamo qui a parlarne come di una storia che continua. Ed è questo il bello, nel senso che è bello che, come è successo alle piazze dei sentinelli, sia il modo per dire mi riconosco in questa battaglia e voglio fare la mia parte per continuarla. E tante persone negli anni sulle piazze dei sentinelli ci hanno detto noi siamo felici di essere qua perché da soli non ce la sentivamo, da soli non ce l'avremmo fatta. Il fatto che ci foste voi ci ha permesso di essere presenti. Ecco, siccome questa cosa è successa tante volte per strada, ci piace che possa continuare a succedere, che qualcuno che domani ha voglia di scendere in piazza per qualcosa che gli sembra importante e urgente possa dire ho quell'esperienza, loro hanno fatto così, io faccio la mia parte, io faccio il mio pezzettino e lo faccio nel modo che mi sento più giusto per me. Una cosa che mi ha colpito molto è quello che hai detto riguardo al tuo ruolo di papà e a ciò che vuoi fare per tua figlia e è quello che il tuo impegno di sentinello rappresenta nei confronti di tua figlia, ti va di raccontarlo. Allora io credo che il ruolo genitoriale sia un ruolo veramente complesso, io mi sento da sempre completamente inadeguato, un po' perché sono fortemente diseducativo di mio, però credo che i figli debbano essere preparati al mondo e forse possiamo fare anche qualcosa per preparare un po' il mondo ai nostri figli. Quindi la mia battaglia e le mie azioni sono su due fronti, il primo è preparare mia figlia ad essere una cittadina che abbia diritti ma che abbia anche dovere, che comprenda come stare al mondo, ma anche quella di costruire un mondo che sia un pochettino più libero e che comprenda, che sia più comprensivo, nel termine proprio etimologico, che sia davvero, che comprenda tutti e che riesca a far fare in modo che tutte le persone si sentano parte della comunità. Anche lei, io non so, Alice in questo momento ha 11 anni, non so chi amerà, non so se sarà eterosessuale o se sarà... non lo so, non ha alcuna importanza, lo trovo del tutto ininfluente. Io spero che possa amare chi vuole senza doverlo nascondere. Questo potendo vivere i propri amori in modo libero, pagandone il prezzo, perché ovviamente gli amori fanno soffrire già tutti di loro. Quindi già quello è sufficiente. C'è capitato di parlare con lei del tuo impegno con i sentinelli? Sì. Che cosa ne pensa lei? Allora, io l'ho trovata illuminante. C'è stato un caso in cui mi ha chiesto notizie sul perché, che cosa significava essere bisessuali, al che abbiamo spiegato molto semplicemente che questa ragazza poteva innamorarsi indifferentemente di uno, di un ragazzo o di un'altra ragazza. Come hai reagito? La risposta è stata... ah, ok. Finito. Eh sì, perché in realtà è più semplice di quanto uno pensa. Cioè, è questa, è una cosa semplicissima. Basta semplicemente considerarci uguali, diversi, ma di uguali diritti. Quindi non abbiamo nessun tipo di... Io che sono assolutamente... È stato ribadito più volte. Sono assolutamente mainstream, anche fisicamente. Allora, è stato detto, rotondo, eterosessuale, bianco, caucasico. Ecco. Un po' stempiato e ci stiamo... L'abbiamo chiuse tutte, quindi sono assolutamente maggioritario. Allora, in questa situazione io credo di... Credo che le battaglie debbano essere mie, perché è proprio la maggioranza che deve combattere le battaglie delle minoranze, se vuole essere una maggioranza vera. Maggioranza non significa che non siamo in una società per azioni, ragazzi. Cioè, non è che la maggioranza decide e gli altri eseguono. La maggioranza deve convivere con tutti e deve includere, deve essere il più inclusivo possibile. Se non cominciamo a coinvolgere il mainstream, quelli come me, quelli che poi, ecco, stendiamo pietoso velo, anche più magri magari, però se non riusciamo a includere questi, forse la battaglia è più difficile. Quindi è questa la parte, in fondo, ed è per quello che mi sento così parte. Ti va di raccontare, i sentinelli cosa rappresentano per Coming Out e che cosa hanno fatto con voi e per voi? Sì, come dicevo prima, è stato importante il loro apporto nella comunicazione che spiegasse e che cosa stavano facendo le sentinelle in piedi nel periodo in cui, appunto, è nato quel movimento di contrasto ai diritti LGBT e in generale, credo, ai diritti civili. È stato importante perché sono riusciti i sentinelli a scardinare un meccanismo ambiguo per cui persone che, innocue, anche con un piglio culturale, leggendo dei libri, stando in silenzio nello spazio pubblico, volevano portare un messaggio di cultura. In realtà volevano portare un messaggio di violenza, perché negare l'esistenza di intere parti della popolazione significa volerle escludere dai diritti di cittadinanza e dall'autodeterminazione. Quindi in questo credo che i sentinelli siano stati una chiave per poter scardinare un discorso pericolosissimo che purtroppo ancora circola e avvelena il dibattito politico-culturale in questo paese. Emotivamente parlando, qual è la parte di questo libro che ti ha coinvolto di più scrivendolo? Allora, ce ne sono state tante in realtà. C'è per esempio che le storie d'amore più lunghe, più belle che io ho incontrato nella mia vita sono quelle tra due coppie di sentinelli che stanno insieme da 40 anni, due coppie di uomini che, quando si sono innamorati, non potevano neanche dire che esistevano. E se io oggi sto in un paese dove io posso unirmi civilmente con la mia compagna, lo devo al coraggio di quelle persone che 40 anni fa hanno superato la paura per non vergognarsi di se stessi. Aver messo nero su bianco tutto questo all'interno di un libro, che importanza ha per questo movimento spontaneo di cittadini, di persone? Per noi è una grande emozione innanzitutto. Avere un libro su di noi è stato, quando ce l'hanno proposto, un'idea che abbiamo detto ma ce lo meritiamo. Noi di fatto non siamo neanche un'associazione, siamo un movimento che fa manifestazioni di piazza e divulgazione online sui temi che ci sono cari. Quindi sicuramente è una grande emozione. E poi sarà un ricordo, uno dei tanti che facendo parte dei sentinelli insomma arricchiscono la mia memoria, il mio cuore. Anche perché secondo me, e lo dico sempre, è importante lasciare una traccia. Questo libro lascia una traccia a livello storico di quello che voi avete rappresentato in questi anni e che continuerete sicuramente a rappresentare. A proposito di continuerete a rappresentare, il 10 ottobre, l'abbiamo anticipato, è una data importante. Vuoi dire tu perché? Sì, è una data importante perché chiamiamo tutti e tutte e tutte le persone che vogliono venire con noi in piazza della Scala, il 10 di ottobre. A Milano. A Milano. A manifestare in supporto della proposta di legge ZAN, che è una legge che punisce la violenza fisica e verbale contro la violenza omofoba, omo, lesbo, bi-transfobica e misogina. Inoltre introduce alcuni strumenti, alcune misure di supporto anche economico e anche sociale per le persone vittime di questo tipo di violenza, omofoba e misogina. Quindi sarà una piazza comunque allega, una piazza sentinellosa, una piazza ironica, propositiva. Il 12 o 13 ottobre la legge viene discussa alla Camera e quindi noi scendiamo in piazza il 10 per rivendicare che vogliamo una buona legge, una legge che non abbia compromessi e che di fatto effettivamente rispetti tutte le soggettività LGBT e le donne. Quindi il 10 ottobre noi andremo con delle rivendicazioni molto precise. Non appoggiamo la legge in modo aprioristico, ma una buona legge che sia a difesa e a tutela dei diritti. Ci sono state delle domande dal pubblico, no? C'è una persona che ha chiesto se i sentinelli sono stati all'interno delle scuole. Tu hai raccontato invece di come Coming Out è stato all'interno delle scuole. Mi interessa capire non soltanto la reazione dei ragazzi, ma se sai, o dei bambini addirittura, perché siete stati addirittura alle elementari, ma anche capire se voi avete avuto un feedback di quello che pensavano i genitori della vostra presenza lì. Perché secondo me poi alla fine è quello il problema, tra virgolette. Non sono tanti ragazzi e bambini, ma è ciò che a casa viene detto loro. Sì, allora, la risposta dei ragazzi, delle ragazze, ma anche dei bambini, insomma degli allievi, degli studenti delle scuole è sempre stata positiva, bellissima. Cioè, anche per noi diventa uno scambio, un arricchimento incredibile. Noto, diciamo, positivamente che le nuove generazioni hanno, rispetto ai temi LGBT, molti meno pregiudizi rispetto alle generazioni precedenti. Non solo sui LGBT, ma anche, ad esempio, sul tema delle migrazioni, che è un altro tema che davvero viene trattato in maniera scandalosa nel discorso politico pubblico, credo. Ho sentito il leader del principale partito l'altro giorno definire le persone su un barcone delinquenti infetti. Cioè, questo tipo di modalità è chiaramente violente e pericolosa. I ragazzi e le ragazze sono molto più avanti, ma se non altro perché vivono quotidianamente una dinamica di scambio, di relazione con tanti di loro che provengono da altri paesi del mondo. Quindi hanno uno sguardo sulla realtà a volte e paradossalmente più avanzato rispetto a quello dei loro genitori. Abbiamo avuto problemi anche con i genitori che rifiutano l'idea che la scuola possa farsi carico di questi temi. La scuola si deve fare carico di questi temi perché, come dicevo prima, è il luogo proprio, è lo spazio in cui i ragazzi e le ragazze possono anche ascoltare un discorso differente rispetto a quello che viene loro proposto dalle famiglie o dal contesto di riferimento in cui sono inseriti. E quindi è importante che abbiano una visione plurale della società perché la società è plurale. Ironia, musica e divertimento rendono la battaglia più facile? Assolutamente. Più facile e più accessibile. Allora, le cose noiose, tutto ciò che diventa pesante è davvero fastidioso, ma lo è per tutti, lo è anche per noi. Quindi cerchiamo anche di prenderci un po' in giro, la pensiamo diversamente, il tifo calcistico ci divide parecchio, è qua. Quindi la Castellani che ha parlato prima è un interista e questo la sta pagando da qualche settimana. Giustamente. E quindi quello che ti dico è che l'ironia è fondamentale, soprattutto per demolire e per demolire la costruzione e la narrazione che viene fatta sulle persone che vengono messe ai margini nella nostra società. già il termine migrante dà un'idea di alterità. Noi siamo qui e siamo stanziali. Dover etichettare in qualsiasi modo qualsiasi persona. Quindi dare una, metterli in scatolare tutte queste persone, noi dobbiamo distruggere semplicemente queste scatole prendendole in giro. Quindi anche quella bellissima la narrazione che ha fatto Davide sul termine frocio che era considerato da sempre un insulto pesantissimo per la comunità omosessuale. Oggi viene utilizzato dalla comunità omosessuale spesso al femminile quindi frocia che trovo straordinario come elemento di legame quindi di autoriconoscimento ed è bellissimo. Viene svuotato il potenziale di cattiveria di odio che c'è all'interno. Questa è una cosa che dobbiamo fare anche noi l'arma e l'ironia prendere tutti in giro non ci sono... Allora io dico una cosa viva gli uomini rotondi caucasici eterosessuali come lui. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Grazie per aver guardato questo video se ti è piaciuto ricorda di mettere un mi piace per non perdere tutti i nuovi video di Jab Media TV iscriviti al canale ed attiva la campanella.